Partiamo da Archicomo, che cosa fate a livello progettuale? Ci occupiamo di progettazione a tutto campo, facciamo progetti che riguardano spazi pubblici, edifici pubblici, edifici residenziali di ogni tipologia, sia di grandi dimensioni che di dimensioni più contenute. Abbiamo una visione dell'architettura a 360 gradi e ci piace di occuparci di tutto quello che gira attorno a questo settore. E allora che progetti vuoi raccontare? Ci stiamo occupando in questo periodo della realizzazione di alcuni progetti che riguardano spazi pubblici, nel caso specifico si tratta di parchi che sono stati oggetto di una importante riqualificazione e rifunzionalizzazione soprattutto. Sono stati rivisitati in una chiave più attuale, con particolare attenzione alla riqualificazione di tutto quello che riguarda l'apparato vegetale preesistente, l'integrazione con nuovi esemplari e l'inserimento di nuove attività che riguardano aree ludiche e che riguardano anche aree per la socializzazione e per l'aggregazione. Quindi spazi pubblici in questo caso? In questo caso proprio spazi pubblici, sì, spazi aperti al pubblico in ambito urbano. Nella città di Como? Nella città di Cantura, nella città di Cerro Maggiore e nell'interland milanese. In questo caso il verde ovviamente è un strumento di progettazione molto importante, vi appoggiate a dei paesaggisti, lavorate in site? Sì, abbiamo sempre l'abitudine di collaborare con degli specialisti del settore che ci danno supporto per quanto riguarda la gestione e la manutenzione soprattutto di tutto quello che è l'apparato vegetale e la parte diciamo viva degli ambienti esterni. Avete lavorato anche a padiglioni temporanee, strutture, architetture, mobili? Sì, sì, sempre di più ci viene richiesto di inserire all'interno di questi spazi degli elementi architettonici che siano in grado di dare comfort e di dare una abitabilità anche se si tratta di spazi esterni proprio nell'ottica di creare opportunità nuove di vita e di aggregazione all'interno di questi ambienti. Non è facile progettare gli spazi pubblici aperti, gli ordini, anche perché bisogna prevedere poi l'utilizzo, i percorsi, spesso uno fa un bellissimo progetto, poi c'è l'erba tagliata dai percorsi in bici o da quelli pedonali, no? Spesso c'è un utilizzo, come dire, diverso da quello che il progetto vi succede, lo prevenite? Sì, si cerca per quanto possibile di prevenire questo fenomeno, anche se non è sempre semplice questo, sicuramente. Ci sono degli accorgimenti comunque che cerchiamo di mettere in atto per evitare che questo accada e quindi cercare comunque di creare percorsi, di creare degli spazi dedicati a ciascuna attività e soprattutto le connessioni all'interno di questi spazi devono poi avere una caratteristica di praticabilità anche nell'ottica di accessibilità anche a persone fisicamente impedite, quindi proprio nella facilitazione della fruizione in questo senso. Ampliata. Senti, invece l'outdoor è legato alla residenza, per esempio, agli altri esercizi, non so, dai bar ai ristoranti piuttosto che... Come lavorate su questo tema dell'outdoor? Lo disegnate come estensione dell'indoor? Sì, 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 assolutamente. Questo sicuramente è un fenomeno che negli ultimi anni si è un po' rivoluzionato, nel senso che anche quegli spazi che sono per loro natura all'esterno dell'abitazione o della casa sono sfruttati e si cercano di sfruttare anche durante tutto il periodo dell'anno. Quindi torna sempre più di attualità la necessità di andare a creare degli spazi confortevoli, degli spazi che abbiano comunque un valore anche architettonico e che diano anche una certa fruibilità a questi ambienti. Quindi si parla di nuove pavimentazioni, nuovi elementi di chiusura, magari anche temporanea, quali possono essere magari delle pergole, comunque il gazebo o altri elementi di architettura che abbiano questa funzione. Con la flessibilità come Paola d'Orbi. Sempre flessibilità. Senti, Como che è al centro di una nuova rivoluzione anche calcistica, però questo porta comunque attenzione sulla città, immagino a che punto è la città dal punto di vista architettonico storicamente lo sappiamo, ma c'è un recupero di alcune situazioni, si costruisce qualcosa di nuovo? Sì, si costruisce sempre qualcosa di nuovo, sempre con l'accortezza e comunque con la gestione attenta del territorio, con i vincoli che comunque sono sempre di primo piano e soprattutto anche con l'attenzione all'aspetto paesaggistico che condiziona sempre e in ogni caso l'architettura. Senti, invece al di là di vincolo, la parola chiave che voi utilizzate o una frase che vi contraddistingue del vostro lavoro esiste? Ma noi abbiamo deciso di dare il nome Archicomo allo studio proprio perché è comunque l'architettura che prevale sempre in qualunque attività che facciamo. architettura, sempre in senso esteso chiaramente del termine, ma comunque la volontà di attribuire ad ogni azione che facciamo quella di costruire e di ottenere un risultato utile per gli edifici, per le persone che li dovranno vivere e per gli ambienti nei quali siamo chiamati ad intervenire. Quindi comunque la parola chiave per la nostra attività resta sempre quella dell'architettura. L'architettura che va raccontata, come in questo caso. Grazie. Grazie.